Ciao a tutti, oggi prepareremo il torrone morbido. Il tempo di preparazione della ricetta è di 60 minuti più 4 ore di riposo. Gli ingredienti sono albume d'uovo, miele, mandorle o nocciole e fogli di ostie. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la farfalla e l'albume. Lo facciamo amalgamare per 20 secondi a velocità 3. Aggiungiamo adesso il miele. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 60 minuti. 100 gradi, velocità 2,5. Nel frattempo abbiamo rivestito uno stampo con apertura a cerniera con carta da forno sul fondo e al laterale abbiamo messo un foglio di acetato e abbiamo ritagliato le nostre ostie con la forma dello stampo. a questo punto togliamo la farfalla. Adesso aggiungiamo le nocciole. ed azioniamo il bimbi per 20 secondi, anti-orario, velocità 2. posizioniamo nel frattempo la cialda e versiamo il nostro torrone all'interno. livelliamo bene e posizioniamo sopra l'altra ostia schiacciando bene. immediatamente facciamo l'autolavaggio nel boccale del bimbi per rimuovere tutti i residui di torrone. posizioniamolo in un luogo fresco per almeno 4 ore, meglio se per tutta la notte. torrone morbido. grazie e alla prossima ricetta! grazie a tutti! grazie a tutti!